Al termine di questo importante convegno di Milano della Law Vision Academy abbiamo l'onore di intervistare il Presidente, il nuovo Presidente di questa importante società oftalmologica, il Professor Sergio Scalinci di Bologna. Professore, innanzitutto all'inizio di questo mandato così impegnativo, quali programmi si prefigge per i prossimi anni della Law Vision Academy? Sì, innanzitutto noi stiamo progettando di fare delle linee guida nazionali e internazionali per la riabilitazione visiva. Poi abbiamo fatto la seconda mappa che è quella di fare degli expertise in campo riabilitativo che è rivolto in tutti i centri di ipovisione distribuiti nel territorio nazionale. Terzo è l'input sulla ricerca perché in Italia purtroppo la ricerca in ipovisione è un po' ancora scarsa per cui il nostro input della Law Vision sarà quello soprattutto di puntare sulla ricerca. Quindi formazione e ricerca sono i due punti saldi della Law Vision. Oggi tra le varie relazioni abbiamo ascoltato una notizia che ha molto incuriosito i nostri soci, un tentativo terapeutico sperimentale che voi state portando avanti a Bologna sulla degenerazione maculare senile di tipo secco. Una patologia di cui di solito si sente dire non c'è niente da fare, si mette al cuore in pace. Che cosa si muove di nuovo in questo settore? In questo settore noi stiamo sperimentando una tecnica già messa a punto dal professor Meduri nel campo della retinite pimentosa che è l'impianto di lipociti subsclerali e che ha dato dei buoni esiti in una patologia già degenerativa molto grave. Nella degenerazione maculare secca stiamo verificando dei buoni risultati soprattutto con gli studi microperimetrici. Oltretutto è partito un multicentrico in questi giorni con il dottor Limoli del centro di ipovisione di Milano e con il professor Vingolo dell'Università di Roma e così anche del professor Bifani dell'Università di Napoli. Quindi direi che nella prossima edizione della Lovicino Academy porteremo questi risultati che sembrano già da una piccola statistica abbastanza incoraggianti. Quindi se capisco bene questa vituperata terapia tra virgolette cubana, russo-cubana che è stata tanto criticata, tanto vituperata negli anni passati, in fondo qualche razionale scientifico ce l'hai? Sì, il razionale è molto semplice perché noi non conosciamo ancora le situazioni degli adipociti che sono delle cellule presenti nel nostro grasso. Negli studi sperimentali fatti anche di microscopia elettronica abbiamo visto che esistono dei fattori di crescita positivi per la retina, per cui quello che si sfrutta in questo non è una rigenerazione cellulare come oggi si parla di cellule staminali, impianto di cellule staminali, no, dobbiamo ribaltare la situazione. Oggi si sfruttano dei fattori di crescita, fattori di crescita che in parte conosciamo e in parte non conosciamo. E comunque quello che è importante è se il paziente mi viene e mi dà delle garanzie di miglioramento della sua situazione visiva giornaliera, beh, è già un fatto positivo. Per cui gli impianti che abbiamo fatto finora ci danno ragione sia dal piano strettamente oggettivo con la microperimetria e sul piano anche, diciamo, strettamente soggettivo, questo è già un grande successo. Invece ho sentito pareri nettamente negativi come già si sta leggendo sulla stampa nazionale da parecchi mesi circa la supposta terapia stamina di cui si era ventilato anche in passato un utilizzo in campo oftalmologico. Che cosa può dire in merito? Le cellule staminali, secondo il mio parere, rappresentano ancora il futuro. Noi non conosciamo ancora bene quali risultati ci possono dare queste cellule. A mio avviso bisogna stare e lavorare con i biologi molecolari, con i genetisti, perché modificare il nostro patrimonio innato può darci delle buone risposte. Certo, siamo ancora molto lontani dall'utilizzo in campo oftalmologico delle cellule staminali, meglio sulle patologie eredodegenerative retiniche, perché se noi consideriamo che le cellule staminali vengono già utilizzate da molti anni in campo corneale con risultati di trasparenza corneale eccezionale, beh, questo la dice lunga. Quindi trasferire la cellularità come si è fatto per la cornea a livello retinico a mio avviso può avere un razionale scientifico. Siamo ancora lontani, ma in altri paesi stanno lavorando più intensamente rispetto a noi. Certo, anche qui una critica, se avessimo più fondi per fare questa ricerca sicuramente l'Italia potrebbe rappresentare una delle nazioni in avanguardia, perché sulla riabilitazione visiva noi siamo i primi al mondo a proporre delle iniziative, tant'è che con anche la IAPB ci hanno chiesto di formulare le linee guida internazionali di riabilitazione visiva. Quindi come abbiamo fatto per la riabilitazione visiva potrebbe essere il campo delle cellule staminali, l'Italia rappresenta una delle nazioni che può giocarsi questa carta. Veniamo all'argomento un po' clou di questo convegno pomeridiano, il campo visivo. Si discute tanto a livello mediatico, giudiziario, politico. Secondo lei il visus e il campo visivo sono veramente i due pilastri su cui si può misurare la validità della visione e l'autonomia concreta delle persone nella vita quotidiana. La legge quando era stata formulata solo sulla acquità visiva aveva già rappresentato un passo avanti, dopodiché ci siamo accorti che solo l'acuità visiva non era sufficiente e quindi grazie al professor Zingirian si riuscì quando allora era presidente del Gisi e quindi a livello ministeriale si è riusciti a portare avanti il discorso del campo visivo. Fu una conquista chiaramente per il paziente ipovedente e oggi credo che questi soli due parametri non siano sufficienti ma bisogna trovare qualcosa di più razionale anche per quei casi limite dove l'acuità visivo e il campo visivo sono un po' ambigui. Quindi grazie alle diagnostiche strumentali e la moderna diagnostica secondo me potremmo avere qualcosina in più e giudicare meglio questi pazienti in commissione che molto spesso purtroppo incontrano delle gravi difficoltà e anche per l'oculista stesso che deve giudicare questi pazienti hanno difficoltà a giudicarli. In che misura esistono allo stato attuale esami oggettivi che possano in qualche modo dare risposte sicure sulla consistenza del residuo visivo? Oggi chiaramente è difficile poter trasferire un messaggio di una situazione soggettiva quale l'acuità visiva a una situazione oggettivabile. Però con le metodologie tomografiche che oggi si parla di OCT, diagnostica avanzata, verificare le patologie non è difficile, cioè non è difficile fare una diagnosi di una rete intempimentosa, di una maculopatia con queste diagnostiche avanzate. Quindi secondo il mio modesto parere aggiungere qualcosina in più a quello che noi già abbiamo potrebbe essere la chiave di svolta per un giudizio diciamo più appropriato in certe patologie. Quindi se interpreto bene lei ci dice è relativamente facile fare delle diagnosi, è più difficile invece quantizzare concretamente la consistenza del residuo visivo. Esattamente, cioè è difficile valutare il residuo visivo. Meglio, ci sono pazienti che in alcune giornate possono vedere più, in altre giornate possono vedere di meno, ma questo è un fatto soggettivo, quindi non è oggettivabile. Allora dobbiamo trovare un'alternativa che possa oggettivare meglio tale situazione. Va bene, professor Scalinci, le faccio tanti auguri per il suo mandato di presidente della Low Vision.